L'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza da Vimercate, che è presente sul territorio del Vimercatese ormai da 40 anni, sta affrontando questa emergenza, mettendo in campo tutta una serie di strutture, di professionalità e di mezzi decisamente non indifferente. A livello dell'ospedale di Vimercate, l'Associazione Volontaria ha messo a disposizione un posto medico avanzato, che ha come scopo quello di fare l'area di pretriage, quindi l'accesso dei pazienti all'interno del punto soccorso è regolato da questa struttura in funzione al tipo di problematica del paziente. Se un paziente con sospetto Covid a questo punto viene indirizzato verso un percorso tra virgolette sporco, quindi fa tutta la parte di accettazione per questo tipo di patologia, tutti gli altri tipi di pazienti, traumi, eventi medici diversi da quello che è la questione coronavirus, si fanno un accesso diverso e quindi la gestione del paziente viene gestito in maniera privilegiata per la sua patologia.